Tra fine settembre ed i primi di ottobre il Comune e la Salernitana si erano parlati con toni molto distesi per affrontare le tematiche sul tavolo. Dalla Rechi al centro sportivo si era parlato di tutto con grande disponibilità al dialogo e propensione a risolvere i problemi. Tra i più sentiti c'erano la situazione della Curva Nord ed alcune problematiche legate allo stato di salute della Rechi, bisognoso di alcuni interventi urgenti di manutenzione. Il via era previsto per i primi di novembre, vale a dire dopo Salernitana-Cremonese. In quella occasione, lo scorso 5 novembre, la Salernitana scese in campo sfoggiando un completino che richiamava le luci d'artista. Un bello spot, oltre che un omaggio, all'amministrazione comunale e dalla città di Salerno. Solo che dalle parole non si è passati ai fatti, almeno non ancora. Il Comune ha appaltato i lavori e ci sarebbe stata anche l'assegnazione ad una ditta che però, a quanto pare, dovrebbe presentare un'ulteriore documentazione. Tutto dovrebbe essere sistemato per i prossimi giorni. La speranza è che per i primi giorni della prossima settimana si possa davvero cominciare, così da poter riconsegnare alla Salernitana e ai tifosi una Rechi più vicino agli standard minimi della massima serie, già per il 4 gennaio, quando la squadra ganata ospiterà i campioni d'Italia del Milan. Da questo lotto di lavori sembra che possa ancora restare fuori la curva Nord. La difficoltà nel reperire i tornelli con software di ultima generazione non è stata ancora superata. Si vedrà strada facendo. Intanto però la speranza è che da lunedì possano prendere il via i primi interventi di manutenzione.